La Campania è la prima regione meridionale per quantitativo di raccolta differenziata, con quasi il 49% del totale dei rifiuti nel 2015, un dato raggiunto nonostante la carenza di impianti di compostaggio, alla quale la regione vuole ovviare realizzandone una rete diffusa e ribadendo il no a nuovi termovalorizzatori. Nell'ambito della sensibilizzazione verso il ciclo virtuoso dei rifiuti, l'osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti in Campania, presieduto da Enzo De Luca, ha siglato un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per attivare degli strumenti all'interno degli istituti tesi a far comprendere a studenti e famiglie l'importanza del riciclaggio. È una battaglia di educazione, vorrei dire quasi di conversione. Come in molte parti del Paese e in Europa, i rifiuti producono sviluppo, energia alternativa, ricchezza, occupazione e noi purtroppo delle volte questo settore sta in mano alle organizzazioni malavidosi e quindi noi dobbiamo fare questa azione. Prima di tutto l'educazione che è un dato culturale col mondo scientifico, l'università, il mondo della scuola, con la sovrintendenza e questo crede che ci permette di avviare parallelamente in questi anni questa azione positiva che sta portando avanti il governo regionale. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Luisa Franzese, si è così espressa in merito. L'impegno delle scuole senz'altro è quello di sensibilizzare le studentesse e gli studenti a che il riciclo dei rifiuti diventa una risorsa, è una risorsa e quindi l'educazione proprio a far comprendere ciò e a rispetto anche di quello che è l'ambiente perché l'ambiente deve essere riservato e protetto non solo per questa generazione ma anche per la generazione di domani. A partecipare alla sigla delle firme l'assessore all'istruzione della regione Campania, Lucia Fortini. Noi dobbiamo smettere ma in generale proprio a guardare ogni volta nella costruzione delle politiche al nostro ombelico, dovremmo cercare di spostare il nostro sguardo molto più in alto per cui partire dalle giovani generazioni naturalmente ci consente di guardare al futuro con più ottimismo.